Ultimi sei giorni per approfittare della norma stracciabollo è infatti il 30 novembre l'ultima data entro cui in Sicilia chi ha pagamenti arretrati del bollo auto potrà sanare i propri debiti senza incorrere in sanzioni e interessi. Proprio l'assessorato all'economia della regione siciliana nell'ambito delle agevolazioni introdotte dalla legge regionale lo scorso agosto consente ai cittadini di mettersi in regola per i pagamenti scaduti tra il 1 gennaio 2016 e il 31 dicembre 2021. È l'assessore all'economia Marco Falcone che in riferimento allo stracciabollo spiega che si tratta di un intervento che con buon senso darà respiro alle casse della regione e migliorerà la capacità riscossiva venendo incontro alle esigenze del contribuente. Per aderire alla regolarizzazione basterà pagare la tassa automobilistica regionale entro il 30 novembre 2022 nelle delegazioni ACI e nelle agenzie di pratiche auto. servirà a specificare la targa del veicolo e l'anno di imposta che si intende regolarizzare. La sanatoria non prevede rateizzazioni. Ad usufruire dell'agevolazione potranno essere sia le persone fisiche che le giuridiche.